Berlusconi mandava i bigliettini galanti alle deputate e lei... No, questo non è vero, era piuttosto il contrario, le deputate che mandavano i bigliettini galanti a Berlusconi di tutti gli schieramenti. Ah sì? Bigliettini e numeri... Ma anche numero di telefono? Sì. Ma anche, diciamo, del centro-sinistra? Soprattutto. Il Presidente le ha mai usati? No. 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 I commessi sapevano che c'era un filtraggio dei bigliettini che dovevano passare per le mie mani. Quello proprio più imbarazzante. Che ha filtrato. In che senso imbarazzante? Più esplicito. Più esplicito, diciamo, di dire. Più laconico. Scusi? Quando mi sposi. Ah, così fu? Di una deputata di Forza Italia? No. No. Lei ha detto che non voleva sapere ieri... No. Quando, per punto. Ebbè, ma scusi, lei filtrava solo quelli del suo gruppo, non poteva filtrare quelli... Ma perché di una deputata? Perché voi riducete l'ambito... No, certo, scusi. ...al sesso femminile o al genere? Ah, di un deputato? No, io non ho detto...